Salve a tutti e a tutte, mi chiamo Iuri Moscardi e sono un dottorando in letterature comparate alla City University New York e sono molto onorato per questo invito, per cui ringrazio la professoressa Chiusaroli. Il tema del mio intervento di oggi sarà dedicato all'evoluzione delle varie pratiche e soprattutto delle terminologie e delle metodologie che hanno accompagnato il percorso per cui da Twitteratura si è arrivati poi una decina d'anni dopo circa all'esperienza di Bitwheel. Credo che sia appunto necessario partire da alcune questioni terminologiche ovvero che questi progetti sono progetti di quello che viene denominato social reading. Il social è una pratica antichissima e consiste essenzialmente nella lettura collettiva, ovvero è stato studiato e è stato dimostrato come fino fondamentalmente all'avvento della seconda rivoluzione industriale alla fine dell'Ottocento e quindi alla diffusione appunto di libri a prezzi contenuti, quindi molto più diffusi, molto più disponibili anche per classi sociali ed economiche non elevate, la lettura fosse da sempre un fenomeno collettivo, anche perché appunto connesso al tema della ristrettezza di accesso economica del manufatto libro era anche correlato al fatto che appunto la stessa educazione fosse una pratica molto costosa e quindi non tutti se la potevano permettere, per cui ecco molto banalmente, molto semplicemente poche persone che leggevano per un pubblico, per un pubblico più o meno numeroso. Si va naturalmente da ambiti familiari, ambiti anche molto più ampi, con pubblici molto più numerosi. Ecco questo fenomeno è stato appunto può essere definito social reading, lettura sociale e fondamentalmente a partire poi con l'introduzione delle tecnologie digitali e in misura molto maggiore dei social network, prende il nome oggi di digital social reading, un fenomeno che tra gli altri ha studiato Federico Pianzola, ricercatore all'Università di Milano Bicocca, a cui ha dedicato appunto un libro che uscirà tra un poco più di un mese per, negli Stati Uniti in inglese, per il Massachusetts Institute of Technology Print. Tornando all'esperienza di Twitteratura e di BitWheel, appunto i progetti su cui questa metodologia si è incentrata e che l'hanno contraddistinta e caratterizzata sono appunto fenomeni che possono essere catalogati come esempi perfetti di social reading, digital social reading. E dicevo prima che una certa rilevanza la terminologia, quindi insieme alla definizione di digital social reading è anche necessario analizzare brevemente le denominazioni con cui questa metodologia è stata via via contraddistinta. è infatti appunto una questione di nomi che nel nome stesso rivela le diverse tecnologie impiegate. Infatti la prima denominazione è proprio quella di Twitteratura, che già nel nome rende esplicito il riferimento a Twitter, il social network su cui questi primi progetti di digital social reading hanno trovato luogo. Come si vede appunto si tratta di una crasi tra Twitter e letteratura e riguarda appunto la pratica non tanto di fare letteratura su Twitter, perché a parte esempi molto sporadici e come viene spesso citato, sempre citato, Black Box, scatola nera di Jennifer Reagan è stato uno degli esempi principali, però fare letteratura su Twitter si è rivelato una missione impossibile, perché lo spazio è veramente molto molto ristretto e perché appunto i tweet vengono pubblicati in ordine cronologico inverso, quindi con il più vecchio in basso, sempre più in basso, e quindi questo rende fondamentalmente impossibile una lettura, quale a cui siamo abituati, dall'alto verso il basso. Quindi Twitteratura, Twitter più letteratura, nel senso che appunto Twitter viene usato in particolar modo per discutere e per commentare opere della letteratura. A riguardo nel 2009 è stato pubblicato negli Stati Uniti un libro che appunto è stato, si intitolava Twitterature, The World's Greatest Books in Twenty Tweets or Less, e i suoi autori erano Asiman e Rensin, fondamentalmente hanno preso alcuni classici della letteratura mondiale, naturalmente loro nel contesto anglosassone la predominanza di autori di lingua inglese era notevole, però tuttavia li hanno presi e per ognuno di loro li hanno riassunti in 20 tweet, quindi messaggi di, stiamo parlando del 2009, ancora 140 caratteri massimo. L'unica differenza con gli esperimenti di cui parlerò è che i tweet di Asiman e Rensin sono sempre rimasti sulla carta, ovvero sono frutto di una grande destrezza di ingegno in questa loro capacità di riassunto, ma non sono mai stati pubblicati sul social network Twitter, anzi sono rimasti appunto solo dentro questo libro. E appunto, come dicevo, le primissime esperienze di Twitteratura prendono questo nome e risalgono in grosso modo al 2012. Uno step successivo è stato quello di trasformare il nome da Twitteratura a TW letteratura, in questo caso appunto per, come dire, ridimensionare il ruolo di Twitter e invece dare maggiore spazio alla parola letteratura, quindi all'operazione che viene fatta o meglio all'oggetto dell'operazione di commento su Twitter. E questo nome, TV letteratura, è stato anche il nome con cui è stata definita un'associazione culturale che ha appunto portato avanti i progetti basati invece sul metodo Twitteratura. Quindi, una prima distinzione importante, Twitteratura è una metodologia, quella appunto di digital social reading su Twitter con cui libri appartenenti al canone o meno della letteratura vengono letti e commentati insieme e TV letteratura invece è stato appunto il nome dell'associazione culturale che promuoveva e tuttora promuove questi progetti. Poi a partire dal 2016 c'è stato un ulteriore passo successivo con lo sviluppo e la diffusione di Bitwheel. Bitwheel è una app, quindi si differenzia in tutto e per tutto da Twitter e che rispetto a Twitter consente lo svolgimento di questi esperimenti ma in maniera diversa, ovvero nella app Bitwheel è possibile pubblicare il testo che si sta leggendo, che prima invece era su un altro supporto o comunque non rientrava quasi mai nella schermata e nell'interfaccia di Twitter e invece appunto Bitwheel permette di pubblicare testo e in particolar modo permette fisicamente e materialmente cliccando, toccando la porzione di testo, solitamente un paragrafo che si sta commentando, di inserire il proprio commento. Un'importante differenza rispetto a Twitter è anche che Twitter nel tempo è cambiato moltissimo, ora consente messaggi di 280 caratteri, Bitwheel invece è rimasto a 140 caratteri, quindi quest'idea di mantenere la sintesi come stimolo alla creatività e alla precisione anche del commento. In particolar modo, un'ultima parola prima di passare alle indagini approfondite dei principali esperimenti fatti su questa, utilizzando questa metodologia, riguarda il fatto che, come dicevo prima, il social reading è una pratica antichissima e allo stesso modo i messaggi che vengono pubblicati su Bitwheel, che prima erano pubblicati in forma di tweet, rientrano appunto nella grande categoria di quelli che sono stati definiti i marginalia, ovvero messaggi, commenti, annotazioni che i lettori hanno lasciato, lasciavano solitamente all'interno del libro, quindi nella pagina materialmente sul libro e che testimoniano appunto la loro pratica di lettura. Per questo motivo io credo che l'oggetto della mia ricerca e dottorato è appunto lo studio dei, di alcuni di questi messaggi in forma di tweet o di twills, i twills sono i tweet di Bitwheel, perché credo che appunto rappresentino la manifestazione concreta del processo attraverso cui il lettore recepisce il contenuto letterario e lo reinterpreta commentandolo. E per questo motivo appunto ho definito tali pratiche, esperimenti, forme di ricezione attiva del testo, ovvero mostrano la partecipazione attiva di un lettore riguardo al contenuto di un testo letterario. Detto ciò, una brevissima analisi ora di quelli che sono stati anche i principali progetti affrontati durante questi anni, durante questi dieci anni. Il primissimo esperimento, quando la metodologia non aveva ancora trovato un nome o nemmeno una, come dire, una programmazione, è riguardato gli esercizi di stile di Raymond Keneu. Fu in quel caso un progetto che si svolse tra il 2011 e il 2012, durante il quale un gruppo di appassionati di Twitter, di Twitter e anche di letteratura naturalmente, provarono a commentare su Twitter gli esercizi di stile. Si tratta di un libro che si presta moltissimo a questo tipo di operazione perché è costituito di brevissimi paragrafi, brevissimi capitoli, ognuno di quali è la riscrittura di una identica situazione. Quella variante che alcune di queste riscritture adottano punti di vista diversi, non usano vocali oppure usano solo una consonante e quindi c'è questa contrainte, questo ostacolo che appunto viene di volta in volta inserito e attraverso il quale, superandolo, Keneu mostra la sua maestria di scrittore. L'operazione appunto si svolse su Twitter con un hashtag, tweetKeneu, con poi seguito da una barra obliqua slash e il numero del capitolo che si stava leggendo. Questa è una pratica che poi è stata mantenuta nei progetti di Twitteratura su Twitter, ovvero essi si sono svolti dapprima scegliendo il titolo del libro da leggere e dopodiché scegliendo anche un particolare hashtag, sempre seguito dalla barra e dal numero del capitolo, con il quale appunto orientarsi nella timeline di Twitter che appunto è notevolmente estesa. Quindi dicevo, il tweetKeneu ha poi provocato, diciamo così, la nascita di Twitteratura perché ha ispirato il primo vero progetto di Twitteratura che è stato il hashtag LunaFalò. Si è trattato in questo caso di un progetto appunto dedicato alla lettura e al commento della LunaFalò di Cesare Pavese perché tra l'audience di tweetKeneu c'era stato anche il direttore della Fondazione Pavese, il quale appunto ritenne che questa pratica, questa metodologia di utilizzare Twitter potesse essere fondamentale per la diffusione di un grande autore classico, quale appunto Cesare Pavese, sfruttando le potenzialità offerte da un social network. Quindi con l'obiettivo di raggiungere un nuovo pubblico di lettori o di coinvolgere lettori precedenti però in modalità diverse. Quindi LunaFalò si è svolto nel 2012 e, scusatemi, ok, LunaFalò si è svolto dal 25 giugno al 9 settembre 2012 e ha, come dire, totalizzato un totale di 5300 tweets con una media quindi di 82 tweets al giorno. In questo caso appunto si è, è un progetto che si è svolto nell'estate del 2012 e che ha, durante il quale sono stati dedicati tre giorni alla lettura e al commento su Twitter di ognuno dei capitoli del libro. Questa è un'altra delle regole della metodologia di Twitter, ovvero che oltre a aver stabilito il testo da leggere e eventualmente il calendario, il hashtag, scusate, si stabilisce sempre un calendario, ovvero si stabilisce che ogni porzione del testo, capitolo, paragrafo, poesia, eccetera, venga letta e commentata soltanto in un determinato numero di giorni. In questo modo la struttura del testo originario viene mantenuta, viene risvecchiata e, stiamo parlando naturalmente di Twitter, si poteva mantenere anche un certo orientamento da parte dei partecipanti. Quindi Luna Falò appunto nel 2012 a cui poi ha fatto seguito un altro progetto molto importante dedicato a Cesare Pavese che è stato il progetto Leuco. Leuco si è svolto invece nel 2013, ha avuto un totale di 60.000 tweet circa, tra tweet e retweet, ed è stato un progetto che ha, come dire, mostrato appieno le potenzialità di questa metodologia, perché si è trattato di una scommessa in quanto i dialoghi con Leuco sono il testo a cui Pavese era più affezionato, a cui voleva, che considerava più suo, nel quale appunto ha racchiuso maggiormente i capisali della propria poetica e della propria letteratura, ma un testo anche che per la sua natura e anche per il periodo storico in cui venne pubblicato, nel fine degli anni 40, è stato sempre molto considerato un testo molto difficile. E invece appunto l'esperimento, la pazzia anche di proporlo per una rilettura sociale collettiva su Twitter, ha dimostrato che la metodologia, o meglio che il mezzo, l'utilizzo del mezzo Twitter, poteva consentire il raggiungimento di nuovi pubblici e soprattutto di coinvolgere in maniera molto molto attiva i partecipanti. Partecipanti che hanno sempre intuito la natura di, così è stato definito, di gioco serio di questi progetti, in quanto appunto si tratta di un'operazione informale, si svolge su un social network dove non esistono gerarchie prestabilite, ma allo stesso tempo per parteciparvi è necessario leggere il testo e commentarlo in maniera seria. Dopo l'esperimento di Leuco, scusatemi, il 2013 ha visto la sperimentazione con altri autori importanti, fondamentali della letteratura italiana. Dopo Cesare Pavese quindi è stata la volta per esempio di Corsari, hashtag Corsari, quindi la rilettura collettiva degli scritti Corsari di Pierpaolo Pasolini e quindi questo ha consentito, ha visto una grandissima partecipazione, ha consentito in questo modo di, come dire, variare il tipo di testo, non più un testo letterario di finzione, ma un testo di non fiction, in quanto appunto gli scritti Corsari sono la raccolta di articoli che Pasolini scrisse per il Corriere della Sera e per altre testate negli anni settanta e che parlano appunto della, uno dei dei temi che gli stava più a cuore, la trasformazione antropologica, secondo lui, degli italiani dovuta al boom della società industriale e il progetto appunto ha dimostrato una grande partecipazione e anche appunto l'utilizzo degli scritti Corsari di Pasolini per il commento dell'attualità del 2013. A partire dall'EUCO, i concorsari e poi nei progetti successivi è stata anche introdotta una figura di riferimento importante, una sorta di tramite tra il libro, il contenuto del libro e i lettori partecipanti a questi progetti. E nel caso di EUCO si è trattato di quelli che erano chiamati con hashtag titani, ovvero partecipanti che volontariamente sceglievano di coordinare la lettura e la riscrittura e il commento di un dialogo. E allo stesso modo con scritti Corsari si sono stati appunto i Corsari che si occupavano appunto di animare tramite il loro account Twitter la partecipazione degli altri partecipanti. Poi alla fine, verso la fine dell'estate del 2013 poi ha visto il progetto Paesi Tuoi, ancora dedicato a Pavese, declinato in maniera veramente attuale, ovvero invece che commentare il testo di Pavese si chiedeva ai partecipanti di commentare i loro paesi, ovvero un progetto che si è svolto ad agosto quando solitamente la maggior parte degli italiani è in ferie, in vacanza e quindi alcuni di loro tornano al paese originario come fa sulla falsariga del protagonista del romanzo e quindi commentare i loro luoghi del cuore. A fine 2013, inizio 2014, si è poi svolto un progetto che si è rivelato fondamentale per gli sviluppi didattici della metodologia di Twitteratura, ovvero hashtag tv sposi. Si è trattato in questo caso della lettura e commento di tutti i promessi sposi nella loro integralità, un capitolo ogni tre giorni, e che per la prima volta si è aperto alla partecipazione delle scuole. Ovvero è stato chiesto, è stato pubblicato un bando pubblico credendo agli insegnanti, molti dei quali inizialmente erano tra gli utenti partecipanti a Twitteratura, di partecipare con le proprie classi e quindi il progetto ha visto la partecipazione di 20 istituti superiori italiani, molto spesso lavoravano con un proprio account Twitter e soprattutto ha visto la creazione di una serie di account Twitter relativi ai personaggi del progetto, ai personaggi del libro di Manzoni. Scelta che ha, come dire, reso la partecipazione ancora più interattiva e in termini di numeri si è rivelato veramente notevole in quanto i tweet collettivi complessivi sono stati più di centomila. In questo modo appunto la metodologia Twitteratura è entrata nelle scuole e sia appunto grazie alla presenza di insegnanti tra il nucleo originario dei partecipanti a Twitteratura, ma anche poi insegnanti che tramite passaparola, tramite il sito web di Twitteratura venivano a conoscenza di questo progetto. Il 2014 ha visto un numero notevole, molto superiore di progetti, tra cui la lettura e commento di Pinocchio, di Carlo Collodi, ma poi anche i libri di Fenoglio, di Byron, Paolo Giordano, Emilio Lusso e un anno sull'altipiano, Bruno Munari, il suo Fantasia e poi altri, insomma, nel tentativo, nella continua sperimentazione di coinvolgere nuovi pubblici e nuovi partecipanti. Il 2015 poi ha visto, oltre a Jane Austen e al suo orgoglio e pregiudizio, anche un altro progetto che lato didattico si è rivelato molto seguito, ovvero TV Puer, dedicato appunto alla lettura e commento del diario di una schiappa nella sua traduzione latina. Una traduzione latina, peraltro, realizzata dal segretario del Papa dell'epoca. E sempre nel 2015 si è svolta anche un progetto dedicato all'Expo di Milano del 2015, denominato hashtag LabExpo, durante il quale sono stati letti e commentati su Twitter i capisali della carta di Milano, ovvero una sorta di documento scientifico dedicato ai problemi dell'alimentazione, su cui poi l'Expo ha costruito il proprio sviluppo, la propria esposizione. E arrivare al 2016, infatti, dicevamo, con i primi progetti su Bitwil, che hanno riguardato Italo Svevo e hanno riguardato altri grandi autori della letteratura italiana ed europea. E in particolar modo, nell'ambito di Bitwil, si sono svolti progetti molto rilevanti, quali per esempio Ventotene, che è stato un progetto dedicato alla lettura e al commento del Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli, ovvero appunto un modo questo per avvicinare i lettori, soprattutto in ambito scolastico, ai capisali dell'Unione Europea, ed è stato appunto premiato dalla Commissione Europea per questo. E poi si sono svolti altri progetti dalla forte valenza didattica, quali per esempio uno dedicato alla lettura e al commento della Costituzione Italiana, e anche più recentemente a un progetto dedicato in occasione della giornata della memoria alla lettura e al commento di un intervento di Liliana Segre al Parlamento Europeo, in occasione del 75esimo della liberazione di Auschwitz, e quindi soprattutto questi. La cosa importante è che negli anni, prima Twitteratura, ma poi soprattutto Bitwil, è stata anche spesso utilizzata in ambito accademico, fuori dall'Italia, soprattutto negli Stati Uniti, in contesti appunto di classi di insegnamento della lingua o della letteratura italiana. Ricordiamo, da questo punto di vista, la partnership con l'Università di Ghent in Belgio, con cui si sono svolti alcuni progetti dedicati a Tasso e a Dariosto, e negli Stati Uniti con l'Università di Harvard, dove si sono svolti prima due progetti di lingua italiana dedicati appunto allo studio della lingua italiana con Io non ho paura di Niccolò Maniti, e poi alcuni studenti dell'Università di Harvard hanno proposto e realizzato un progetto dedicato ai proverbi italiani, nell'ambito di un corso in cui loro studiavano appunto i dialetti italiani. Questa, grosso modo, è stata, ho cercato di essere il più sintetico possibile, una sorta di riassunto dei principali progetti che si sono svolti finora. Concludo solo ricordando che alcuni dei principali libri della letteratura italiana, uno su tutti quello della Divina Commedia, sono presenti ora su Bitwil a scaffale aperto, ovvero rimangono sempre disponibili e chiunque vuole può commentarli ogni volta che vuole, singolo o con le proprie classi. Grazie e arrivederci.